Siamo a caccia di donne che hanno il bifactor, cioè quel talento femminile attraverso il quale promuovere innovazione e leadership per dar vita a nuove realtà organizzative, sia che si tratti di aziende che di no profit. Per le candidature ovviamente saranno privilegiate le start-up innovative, ma saranno accolti anche premiati quei progetti che riguardano l'impresa tradizionale. Ovviamente come referente della Fondazione Belisario per la Regione Campania esorto tutte le donne della Campania a farsi avanti entro il 2 settembre scrivendo a infochiocciola fondazionebelisario.org per essere valutate dal comitato scientifico-tecnico di esperti e per poter partecipare poi all'evento di Roma del 19 di ottobre che si terrà nel corso della 24esima edizione di Donna, Economia e Potere. Donne della Campania fatevi avanti.